Ecco, riprendono le trasmissioni in diretta di tipo radicale, spazio della rassegna stampa internazionale di Salvatore Antonaci, ecco subito a voi lo schermo. Spazio e tempo, benvenuti a tutti gli web spettatori, siamo al numero 3 della rassegna stampa internazionale, un format che ormai ha assunto i suoi propri connotati, che cerchiamo di migliorare via via, diciamo, col passare delle puntate. Dunque, quest'oggi, come al solito, andremo un po' a spasso per l'Europa, partiremo dall'Inghilterra, da una zona che in passato fu martoriata del Regno Unito, ovvero sia l'Irlanda del Nord, dove sono avvenuti, diciamo, dei fatti piuttosto preoccupanti, nella fattispecie un attentato ad opera dei dissidenti repubblicani irlandesi. Passeremo poi alla Francia a discutere di un caso di attualità piuttosto interessante, si parla della politica nei confronti dell'immigrazione, il governo sta così e l'impressione è quella, diciamo, di un giro di vite da parte del governo conservatore francese, che cerca di recuperare un po' quei voti in libera uscita, che stanno rifluendo verso l'estrema destra del fronte nazionale, come avevamo modo di sottolineare, se ricordate bene, un paio di settimane fa. Andremo poi in Belgio, il Belgio è stato scosso oltre che dalla grave crisi politico-istituzionale, di cui abbiamo fatto cenno nelle puntate precedenti, anche ovviamente dalla ferpedofilia che è arrivato fino alle più alte cariche ecclesiastiche del Paese, nella fattispecie parleremo oggi del caso di un arcivesco di una città importante come Bruges, che avrebbe coperto per anni e anni gli abusi con generose dazioni di danaro, quindi il caso sembra davvero un pozzo senza fondo e non si vede come la chiesa di questo piccolo Paese possa uscirne in termini di credibilità, ci vorranno forse decenni per ricostruire la fiducia dei cittadini belgi nei confronti dell'istituzione ecclesiastica, ammesso che ci si riesca. Passeremo poi al Portogallo dove affronteremo una tematica anche qui abbastanza scabrosa, parleremo di violenze in ambito familiare e di come la legislazione portoghese non reprima in maniera sufficientemente netta questo reato odioso, infatti si parla di un numero alquanto scarso di condanne a carico di uomini che avrebbero maltrattato le moglie, le conviventi e di pene piuttosto lievi, quindi si tratta di una problematica che come dato ravvisare interessa un po' tutto il continente europeo e non è solamente una caratteristica italiana ovviamente, faccio riferimento naturalmente a quell'ondata di casi, di maltrattamenti purtroppo anche di omicidi che si sono verificati in quest'estate e che sono diventati una specie di emergenza nazionale come spesso succede in Italia ovviamente, è bene che il problema sia illuminato in ogni suo aspetto, però è anche il momento di iniziare a parlare di come combattere con chiarezza e con strumenti giuridici opportuni questa specie di reato, ovviamente nessuno sta qui a reclamare sanzioni capitali o norme eccezionali come purtroppo spesso succede in Italia, però bene o male bisogna che il legislatore affronti in maniera adeguata questo reato e ripetersi purtroppo nonostante le misure già messe in atto. Passeremo poi all'Iran dove c'è un'intervista esclusiva del Guardian, il quotidiano liberal progressista di sinistra inglese che intervista appunto all'esclusiva dell'intervista della donna che è stata, se ricordate avevamo fatto accenno domenica scorsa, della donna che è stata condannata a morte per l'abitazione con l'accusa di adulterio, ricordate che c'è stato l'intervento diplomatico del Presidente brasiliano Lula che si è impegnato in prima persona per la liberazione della donna e oggi appunto nell'intervista su Guardian la signora Stiani appunto fa riferimento al suo caso come un'odiosa montatura da parte della polizia e del regime iraniano, quindi aleggia il sospetto che si tratti di un caso che esuli dalla cronaca piuttosto per andare verso direzioni politiche, quindi ovviamente come in questo caso tutto inizia a confondersi, tutto inizia a complicarsi. Dunque poi andremo in Australia, anche in Australia è vigilia elettorale, il 24 agosto si voterà per il rinnovo del Parlamento australiano e i sondaggi sono quanto mai incerti, il governo laborista che è stato eletto solamente pochi anni fa, tre anni fa si trova in gravi ambasci e l'opposizione liberal conservatrice in grande spolvero, quindi i sondaggi danno risultati piuttosto di difficile previsione, su tutto poi si aggiunge uno scandalo che colpisce trasversalmente le varie forze politiche in campo, ancora una volta come è stato il caso dell'Inghilterra l'anno passato, si tratta della questione dei rimborsi spese per quanto riguarda i parlamentari, è un giornale australiano, il Daily Telegraph di Sydney va a fare un po' le pulci alla classe politica, ai parlamentari, agli MP australiani e nota come vi siano tantissime spese, tra virgolette spese futili e voluttuari che sono state addebitate al contribuente australiano e quindi è un po' una singolare analogia con quanto è successo in un altro paese del Commonwealth con la Gran Bretagna, guarda caso anche qui il giornale che ha messo tutto in luce mettendo alla berlina la classe politica di quel paese si chiama Daily Telegraph, nel caso australiano un giornale mainstream si muove più o meno al centro dello scacchiere politico, mentre il Daily Telegraph inglese ovviamente è un bastione della cultura conservatrice, quindi l'unica differenza se vogliamo è questa. E poi chiuderemo con il ritorno di, qualcuno direbbe purtroppo, il ritorno di Fidel Castro in un consenso ufficiale nel cosiddetto Parlamento cubano, ha tenuto uno dei suoi discorsi, anche se non fluviale come al solito, la round 3 del dittatore cubano è durata solamente 15 minuti, il che è stato tempo sufficiente per lanciarsi in analisi politiche, cervellotiche nelle quali è sempre stato maestro. In questo caso Fidel appaventa lo spettro di una possibile guerra nucleare globale scatenata, guardate un po' dall'eventuale intervento americano nei confronti dell'Iran, quindi Fidel Castro ancora una volta non perde occasione per lanciarsi in proclami sensazionalistici, tutto ovviamente è stato ripreso ampiamente dai medi internazionali, soprattutto dalla stampa spagnola e noi infatti abbiamo ripreso la notizia del paese. Dopo questa introduzione doverosa partiamo dal primo titolo, dal citato dei Telegraph che ci dà la notizia molto preoccupante che si è verificato un altro attentato nei confronti delle forze di polizia britanniche nell'Irlanda del Nord, nella fattispecie la cosa che preoccupa è che ad essere nel mirino dei terroristi indipendentisti è una donna, è la moglie di un ufficiale di polizia peraltro cattolico e che è stata miracolosamente scampata a una bomba che è stata collocata sotto la sua autovettura. Si tratta di ordigni di non grande potenziale che però in caso di esplosione possono avere conseguenze devastanti, ad esempio un altro poliziotto inglese era rimasto privo delle gambe a causa di un analogo attentato solamente pochi giorni fa. Questo atto testimonia di quanto sia ancora fragile il processo di pacificazione tra le due comunità dell'Alster, quella cattolica e quella cattolica indipendentista e quella unionista protestante che purtroppo continuano a fronteggiarsi con il ricorso alla violenza, anche se dobbiamo dire che i segnali di disgelo sono abbastanza importanti, solamente il mese scorso ci fu una coraggiosissima presa di posizione di David Cameron, del neoeletto primo ministro inglese che si assunse la responsabilità, meglio si assunse la responsabilità per conto dell'Inghilterra, del famoso Bloody Sunday, della domenica di sangue del gennaio 1972 che provocò la morte di 14 manifestanti pacifici indipendentisti irlandesi e che rimase una macchia nera dell'occupazione inglese dell'Alster, nonché fu l'elemento scatenato di tutta quella ondata di terrorismo che nel corso dei successivi 25 anni provocò diverse migliaia di morti, fu una vera e propria guerra civile nel cuore della civilissima Europa. E poi se ben ricordate ci furono gli accordi del venerdì santo e quindi alla fine poi la situazione più o meno si è ricomposta, nel senso che i rapporti tra le due comunità sono diventati, sono alquanto migliorati, quindi si è riusciti a disinnescare questo conflitto devastante, anche se ovviamente come testimonia l'attentato di cui facciamo riferimento nell'articolo di quest'oggi, ancora non tutto sembra risolto, peraltro l'attentato di ieri interviene dopo un attacco di ben più vasta portata provocato da una bomba di 200 libri fatta esplodere all'esterno di una stazione di polizia della città di Derry, quindi è un altro attentato che avrebbe potuto avere conseguenze ben più devastanti. Quindi sono ancora spine per quanto riguarda la politica inglese in questo delicato scacchiere. Vedremo cosa accadrà, se ci saranno sviluppi, si spera positivi nelle prossime ore. Passando alla Francia, il New York Times, come ci rivela Le Figaro, fa un po' le pulce alla politica di Sarkozy per quanto riguarda l'immigrazione e accusa senza mezzi termini il Presidente francese e il Governo attualmente incarica di speculare, di fare dei calcoli elettorali in vista delle non lontanissime elezioni presidenziali che ci saranno nel 2012. Sotto la lente di ingrandimento del New York Times e soprattutto la politica per quanto riguarda l'immigrazione. Il giornale libero all'americano non esita a parlare di xenofobia per quanto riguarda le recenti affermazioni del Presidente francese in materia di sicurezza e di immigrazione. In un editoriale intitolato Xenofobia, la caccia non francese, il prestigioso quotidiano neorocchese se la prende con le recenti affermazioni del Presidente francese in materia di sicurezza e immigrazione, affermando che Nicolas Sarkozy attizza pericolosamente i sentimenti anti-immigrati in nome di calcoli politici di breve respiro. Particolarmente sotto bersaglio del New York Times è il progetto di togliere la nazionalità francese ai delinquenti di origine straniera che hanno attentato a membri di forze dell'ordine francese. La paura è che gli elettori non comprendano che una tale legge prende di mira soprattutto gli immigrati musulmani. Il Ministro degli Interni ha aggiunto alla lista delle possibili fatti specie per il ritiro della nazionalità francese anche reati di poligamia e mutilazioni genitali. Poi altro tema su cui si appongono gli strali del New York Times sono le proposte, le affermazioni che Sarkozy ha fatto a riguardo dei Rom, è una situazione anche in Francia piuttosto preoccupante e Sarkozy ha affermato di voler distruggere i campi Rom e di rinviare, di rimandare chi li abitava da dove venivano, soprattutto in Romania, in Bulgaria, insomma affermazioni piuttosto pesanti da parte di Sarkozy e quindi il New York Times ovviamente dà giù altrettanto pesantemente. Quindi non è la prima volta comunque che il New York Times se la prende con la Sarkozy, anche nel 2007 il capo di Stato francese aveva avuto già l'onore di un editoriale piuttosto sarcastico, piuttosto acido. Oltretutto anche l'interdizione totale del velo islamico ha anche provocato la sollevazione del quotidiano americano che accusava appunto il governo francese di attizzare in questo modo l'odio. Il giornale chiude in questa maniera che fare campagna contro gli immigrati assai popolare presso l'elettorato di origine francese, il signor Sarkozy non si è mai nascosto a questo riguardo. Soprattutto però nota il New York Times in un momento come questo nel quale il consenso di popolarità di cui gode il capo dello Stato ai più bassi livelli e che il fronte nazionale dicevamo in apertura riprende con forza le sue posizioni guidato da Marine Le Pen, la figlia di Marine Le Pen che porta avanti posizioni assai più inquietanti di quelle della destra tradizionale. Naturalmente la chiusura è un invito quasi a non ignorare una prudenza necessaria, non farsi prendere dall'ansia della demagogia per preparare i futuri scontri elettorali, quindi come potete vedere sono posizioni piuttosto nette da parte della grande stampa internazionale che se la prende con il capo dello Stato francese. A questo proposito sempre dalle Figaro abbiamo testimonianza di quanto detto nell'articolo precedente riguardante la posizione del New York Times, abbiamo testimonianza che la polizia inizia ad adottare una politica tra virgolette di come si sarebbe detto fino a qualche tempo fa, adesso pare che la formula sia passata in desuetudine di tolleranza a zero e quindi la polizia francese inizia il suo piano di sgombero dei campi rom partendo da Saint-Étienne, cittadina dell'ovest della Francia e della regione parigina. Venerdì scorso centinaia di rom sono stati evacuati dai campi attorno a queste città. La promessa tra virgolette era quella appunto di entro fino agosto di sanare tutte quelle situazioni di illegalità e quindi di sgomberare tutta una serie di villaggi rom che stazionano nelle vicinanze delle principali città francesi. Lo sgombero di qualche centinaio di rom dal campo di Saint-Étienne ha provocato naturalmente reazioni indignate da parte delle associazioni che si battono per un tentativo lodevole di integrazione nel tessuto sociale francese di questa comunità, in particolare viene sottolineata la posizione di Paul Rue che è membro di un'associazione di sostegno Rom che parla appunto di un blitz ignobile e tutto svoltosi in maniera dragoniana, quasi militaresca che ricorda purtroppo pagine nere della storia francese del passato. Dunque per quanto riguarda il problema nel suo complesso dobbiamo ricordare che appunto il problema principale è collocato nel dipartimento di Saint-Étienne, il dipartimento che grafita attorno a Parigi dove sono stati censiti dai 3.000 ai 3.500 rom raccolti in diverse decine di campi e questi saranno il prossimo obiettivo dei blitz della polizia francese che si è posta come obiettivo entro la fine dell'estate di monitorare e di tra virgolette normalizzare qualcosa come come 300 siti, 300 campi nomadi che dovranno essere smantellati da qui a tre mesi appunto il termine ultimo. Quindi naturalmente immaginiamo che le polemiche già roventi, il dibattito all'interno dei media e della società francese si inaspirà nel corso delle prossime settimane. Comunque l'impressione generale è quella appunto di tutta una serie di provvedimenti demagogici messi in atto, cosa che è grave soprattutto senza la minima pianificazione del dopo perché ovviamente si sgomberano i campi nomadi e la promessa per virgolette era quella di rispedire tutti nelle rispettive patrie di origine ma dubitiamo che un provvedimento simile possa mai essere accettato, quindi ci si ritroverà con una situazione altrettanto ingestibile di quanto non lo fosse in principio ed è una situazione che accomuna anche la Francia all'Italia, perché anche in Italia nei mesi scorsi si è fatto accenno all'emergenza utilizzando le stesse parole d'ordine, gli stessi metodi, il problema lungi dall'essere risolto e giace ancora con tutte le sue complicazioni sotto lo sguardo di tutti. Passando dalla Francia al vicino Belgio, altro scandalo, altro problema gravissimo, quello della pedofilia che ha colpito le alte cariche gerarchiche della chiesa belga, oltre che l'ambire anche il mondo della politica. Il caso messo in luce dalle suarie, il giornale principale il giornale belga è quello dell'ex vescovo di Bruges, una delle principali città belghe, Roger Vangelove, colpevole di anni e anni di abusi nei confronti di minorenni, secondo un settimanale belga avrebbe pagato sostanziosi assegni alla famiglia di uno dei bambini, dei ragazzini di cui avrebbe fatto abuso. L'autore dello scoop, riprende la ripresa, l'appelazione, l'intervista che è stata fatta ai familiari del ragazzino, protagonista degli abusi e ovviamente il giornalista afferma che naturalmente non è per giustificare questo comportamento, ma possiamo comprendere che una famiglia assai cattolica abbia preferito il silenzio in cambio del danaro per evitare la vergogna o l'intimidazione per quanto riguarda la propria posizione sociale. Quindi bene o male si cerca di giustificare la posizione della famiglia della vittima che ha delle responsabilità gravissime, che effettivamente qua si tratta di aver giocato per anni con la pelle di una persona indifesa, quindi oltre all'orco ci sono delle responsabilità ben precise da parte di chi avrebbe dovuto stare vicino alla vittima piuttosto che di tentare di coprire tutto in nome della rispettabilità della famiglia e di altra amenità, effettivamente sono delle colpe gravissime. Ed è il problema del Belgio, è una delle tare che in questi anni si è manifestata con particolare la virulenza in Belgio, tutto prese alle mosse dal famigerato caso Dutruse, che ricordate tutti, insomma quel assassino pedofilo che godeva di altissime coperture istituzionali all'interno delle forze dell'ordine, della polizia, nonché della politica belga, che appunto è stato quell'elemento detonante che poi ha fatto sì che il Belgio purtroppo fosse divenuto un po' il punto di riferimento di questo reato odioso e come abbiamo visto, come vediamo, come testimonia questa notizia, il tutto è ben lungi dall'essersi risolto ed è purtroppo rimane una macchia nera che si farà fatica a cancellare nei prossimi anni. Passando dal Belgio al Portogallo, altro reato odioso è quello della violenza domestica, ovvero delle donne che vengono maltrattate in casa, in ambito domestico. Il politico principale quotidiano portoghese fa riferimento a dei dati preoccupanti, qualcosa come 30 mila reati di questo tipo consumatisi negli ultimi anni è un numero di condanne veramente risibile, si parla di 59 persone rinchiuse in carcere per questo tipo di reati e peraltro con pene piuttosto lievi, si va da 1 a 6 anni anche in casi acclarati di stupro, violenze gravi e tentato omicidio, quindi si tratta di un problema su cui i media locali si sono come si può ben comprendere gettati con un certo impegno, facendo notare le incongruenze della legislazione lusitana che per altri tipi di reati va abbastanza sul pesante, mentre per questo utilizza una mano piuttosto leggera, facendo notare questa incongruenza piuttosto pesante. Naturalmente poi si parla di provvedimenti che si possono mettere in atto per cercare di sanare questo vulnus, le sospensioni provvisorie del processo che impediscono un iter rapido dei vari casi, vengono presi sotto mira dalla stampa, ma poi vi sono altre deficienze come sono quelle appunto dell'impreparazione delle forze di polizia, della magistratura e anche della scarsità della rete di monitoraggio per quanto riguarda questa fattispecie di reato che purtroppo in Portogallo come in molti altri paesi rimane spesso e volentieri nell'ombra un po' e purtroppo sono situazioni abbastanza simili a quelle che abbiamo visto precedentemente parlando della pedofilia, sono comunque reati che purtroppo sono abbastanza difficili a volte da individuare perché c'è una specie di silenzio colpevole, a volte di silenzio imbarazzato che va a coprire questi crimini. Passiamo dal Portogallo alla Repubblica cieca, perché come avevamo anticipato in una precedente puntata il nuovo governo al potere da un mese nella Repubblica cieca, un governo di centrodestra, ha deciso di dar corso a una delle decisioni della propria agenda politica, era quella di dare il via alla costruzione di nuovi reattori nucleari. Nel caso in specie si tratta del reattore di nuova generazione di Temelin, un impianto che va a modernizzare il precedente impianto sussistente nella stessa zona e vengono prese in esame le posizioni di alti esponenti del governo in carica, che naturalmente fanno notare gli aspetti positivi di questa decisione, facendo notare che con questo rilancio dell'opzione nucleare ovviamente il fabbisogno energetico del paese centro europeo sarà quasi interamente coperto da fonti energetiche nazionali, questo è il principale argomento portato avanti dal nuovo governo cieco, oltre naturalmente alla sicurezza dei nuovi impianti, sono ben diversi da quelli della generazione precedente. Il tutto naturalmente è stato reso possibile anche grazie al fatto che il Partito Verde, che era al potere nella precedente legislazione, peraltro appoggiando appunto un governo di centrodestra, quindi era uno dei pochi casi, se non l'unico caso in cui un partito ecologista comunque si trovava al governo con una coalizione di centrodestra, dicevamo che questo partito nelle recenti elezioni non è riuscito a superare lo sbaramento del 5%, quindi rimanendo fuori dal Parlamento praticamente non ha più voce in capitolo. Questo partito, ricordiamolo, aveva bloccato il piano di sviluppo nucleare del precedente esecutivo guidato da Topolanec, che appunto si era impegnato con una pubblica dichiarazione a non dar corso alla costruzione di nuovi impianti nucleari nei prossimi anni, a mettere in atto una sorta di moratoria e questo ovviamente è venuto meno con le elezioni, con la sconfitta degli ecologisti e con la vittoria dei conservatori. Diciamo peraltro, per inciso, che comunque la decisione cieca non è un fulmine a ciel sereno perché anche in altri paesi c'è un sostanziale ripensamento nei confronti della politica da attuare nei confronti dell'atomo e nell'articolo di Check News viene fatto riferimento alla Finlandia che ha aumentato gli investimenti per la costruzione di un nuovo reattore in una città del sud del paese. Analoga situazione, viene citato anche il caso della Bulgaria che anche in questo caso ha aumentato da 2,5 a 9 miliardi di euro gli investimenti per quanto riguarda il nucleare, quindi siamo di fronte a un quadro che sta rapidamente mutando e la convenzione ad escludendum nei confronti dell'atomo non è più così granitica come pareva fino a qualche anno fa. Ricordiamo ad esempio a Darellafu, se ben ricordate, la decisione di smantellare tutti gli impianti nucleari che fu presa dall'allora governo di sinistra, rosso-verde, di Gerard Schröder non più tardi di una decina di anni fa e naturalmente poi ovviamente con il cambiamento dei regimi politici e con l'approfondimento della materia ovviamente il dibattito sta venendo su e le posizioni non sono più, come dicevamo, non sono più così nette come apparivano solo qualche anno fa. Allora, dalla Repubblica Ceca, dall'Europa, ci spostiamo fuori dal vecchio continente, anche se lo facciamo facendo riferimento a un giornale inglese che è il Guardian. Il Guardian, come dicevamo, ha un'intervista esclusiva con Sakinemo Hamadi Ashtiani, che è la donna di 53 anni che è stata condannata alla lapidazione dell'autorità di Teran con l'accusa di adulterio. In questa intervista l'Astiani, che ha 43 anni, che ha detto 53, è più giovane, naturalmente fa riferimento al suo caso, ovviamente accusando gli organi di giustizia Ragnani di mentire spudoratamente e di attuare una vera e propria persecuzione nei suoi confronti, perché ovviamente si trattava di un marito di questa signora, era un noto assassino che aveva tentato di uccidere l'uomo con cui essa abitava, quindi non si tratta di un adulterio, bensì di una vera e propria persecuzione, quindi ovviamente chiaramente il legislatore iraniano mette in pratica quelle decisioni draconiane del diritto iraniano che sappiamo bene, ovviamente in questi casi ovviamente vede la donna come soggetto debole della società da colpire, da tenere sotto controllo, naturalmente sappiamo tutta la casistica dei diritti umani non rispettati nell'Iran che in personalità come ad esempio Shirin e Badi ci ha illustrato negli anni precedenti e che appunto vengono sistematicamente messi in luce da quelle poche voci che riescono ad uscire da un paese sostanzialmente sotto il controllo ferro di una dittatura feroce, di stampo integralista che negli ultimi anni sta anche utilizzando pericolosamente l'arma dello sciovinismo nazionalista diventando sempre di più un fattore di tensione nelle relazioni diplomatiche internazionali, sappiamo il dibattito sulle armi nucleari che sta causando minacce e minacce di guerra nella zona e ovviamente il caso di questa donna si inserisce in questa degenerazione sempre più preoccupante del regime di terra. Ricordiamo appunto per, come dicevamo in esordio, che comunque in questo caso ha qualche possibilità concreta di concludersi felicemente perché rammentavamo dell'intervento del Presidente brasiliano Ignacio Lula da Silva che si era impegnato appunto a far espatriare la donna, a farla giungere in Brasile e quindi a risolvere felicemente questo caso evitando la condanna capitale all'Astiani. Speriamo di avere presto notizie felici per quanto riguarda appunto la conclusione di questo caso scabroso. Andando, rimanendo in Asia però spostandoci verso l'estremo oriente del Giappone, il Japan Times, il principale giornale giapponese, ci dà conto di uno dell'ennesimo scandalo che investe la classe politica giapponese, come ben sappiamo una delle classi politiche più corrotte del pianeta che non passa giorno, che non si riesca a scoprire un parlamentare o a un partito politico che imbroglia le carte lasciandosi andare a tutta la panoplia dei reati possibili e immaginabili in tema di truffe, appropriazioni, concussioni, corruzioni etc. In questo caso si accusa un altro membro dell'ufficio di gabinetto dell'ex Primo Ministro Tal Takeo Kawamura, che era un membro della Camera Bassa del Partito Liberale Democratico, il Partito Liberale Democratico, il principale partito di governo giapponese che ha retto le sorti del paese nipponico per decenni, una specie di democrazia cristiana locale, mutatis mutandis. Questo capo di gabinetto si sarebbe avvalso la sua posizione per utilizzare dei fondi segreti, ammontanti a qualcosa come circa 250 milioni di Yen, quindi una somma enorme per spendere questi fondi in preparazione della campagna elettorale, quindi il sospetto fondato da parte degli inquirenti è che il personaggio abbia tentato di inquinare il dibattito elettorale, la campagna elettorale spendendo soldi pubblici per cercare di pagare una campagna elettorale a sé e evidentemente a dei suoi colleghi di partito. Purtroppo poi ovviamente la spesa, l'esborso di pubblico denaro è continuato anche dopo le elezioni, quindi ulteriore aggravio di accuse per quanto riguarda la posizione di questo alto funzionario del Parlamento, dell'ex governo giapponese. Ricordiamo che gli scandali di corruzione negli scorsi anni hanno investito anche personalità ben più rilevanti dei vari governi giapponesi ed è prassi che dura addirittura dagli anni 70, se ben ricordiamo negli anni 70 ci fu un importante primo ministro giapponese che venne coinvolto nell'affare Loki, dell'affare di tangenti scaturita dall'acquisto di velivoli della nota multinazionale aeronautica militare americana, fu uno scandalo di prima grandezza che come ricordate investì anche l'Italia e fu veramente un affare di prima grandezza che illustrava tutta la corruttibilità della politica nel mondo contemporaneo. Passando dal Giappone all'Australia abbiamo un altro scandalo, questa volta legato ai rimborsi spese dei parlamentari australiani, dicevamo che è un caso che fa da pandan con quanto avvenuto in Inghilterra, con quanto messo in luce dal Daily Telegraph non più tardi di un anno fa, ricordate fu coinvolta l'intera classe politica inglese trasversalmente, in quel caso si documentavano le spese futili, voluttuarie di tutti i parlamentari britannici e si scoprì che dei parlamentari, dei lord britannici spendevano i soldi dei contribuenti per aggiustarsi il giardino di casa piuttosto che per pagarsi le spese di trasporto, addirittura alcuni per scaricare dei videoporno dalla linea DSL come fu il caso del marito della ministra dell'interno inglese, un caso che fece scalpore, gettò nell'imbarazzo il numero 10 di Downing Street, contribuendo anche essa alla sconfitta dei laboristi che non erano i soli responsabili di questo malcostume, però ovviamente venendo da 13 anni di gestione del potere sono stati quelli che hanno pagato lo scotto principale di questo scandalo che, ripetiamolo, interessava trasversalmente tutte le forze politiche, almeno quelle che erano rappresentate all'interno del Parlamento inglese. Bene, adesso in Australia, anche qui vigilia elettorale, si voterà il 24 agosto, peraltro dicevamo un duello che si preannuncia al calor bianco perché i sondaggi sono a quanto combattuti tra il governo uscente laborista e l'opposizione liberal-conservatrice australiana, dicevamo. All'interno di questa campagna elettorale roventissima si introduce questo ulteriore elemento di rottura e vedremo se qualche partito sarà colpito più degli altri, vedremo in particolare se il partito laborista che si trova ad amministrare la cosa pubblica da tre anni e pagherà anche esso il prezzo principale di questa ondata di moralità che sembra investire un po' tutte le classi politiche dei paesi occidentali senza esclusione. Ricordiamo che in questi giorni, ad esempio, c'è molta indignazione nei Stati Uniti per il viaggio della First Lady Michelle Obama in Spagna e molti giornali, anche quotidiani, anche Libera hanno fatto accenno alle enormi spese del seguito della First Lady, alcuni si sono lanciati addirittura in confronti riguardosi e piuttosto azzardati paragonando la First Lady a una sorta di moderna Maria Antonietta, quindi il riferimento è piuttosto pesante. Quindi, dicevamo, le classi politiche dei paesi occidentali sono tutte più o meno nel mirino della pubblica opinione ed è un bene che così sia, perché ovviamente il potere politico deve sempre avere come contrappeso il bilanciamento di una libera stampa che incalzi la politica che gode di un potere enormemente superiore, il potere democratico rappresentativo gode di un potere, gode di un'autorevolezza e di una dovizia di mezzi ben maggiore di quanto potessero disporre poteri più o meno assoluti del passato, come le monarchie sette-ottocentesche, ovviamente gli Stati nazionali hanno tutta una serie di strumenti per poter affermare il proprio potere ed è giusto che vi siano dei contrappesi che funzionino, che incalzino la posizione di potere dei politici, della politica e quindi benvengano queste inchieste su abusi, su privilegi, quindi anche l'Australia è un esempio che abbiamo sotto gli occhi. Il giornale analizza sistematicamente la posizione di 226 parlamentari e senatori australiani, si parte dalle spese in fotocopie di 3 dollari australiani da parte di un parlamentare fino ai 770 mila dollari di assegne per quanto riguarda trasferte oltre continente, transcontinentali dell'ex primo ministro laborista Kevin Rudd e quindi vengono analizzate tutte le posizioni dei parlamentari australiani facendo notare come ci sono veramente delle spese che sono risibili, se non fossero anche drammatiche per quanto riguarda la condizione dei contribuenti australiani che si trovano a dover sostenere tutte queste spese, vengono addebitate multe per tutta una serie di decine e decine di infrazioni stradali da parte di un parlamentare, un altro che avrebbe fatto uso piuttosto disinvolto di mezzi privati come tassi, come automobili pubbliche, tutto a carico dei contribuenti e la somma complessiva delle spese ammonta una cifra veramente preoccupante, parliamo di 19 milioni di dollari solo nel corso degli ultimi 6 mesi e limitatamente ai costi di trasporto, ai costi che i parlamentari avrebbero fatto pagare ai contribuenti per le varie trasferte sul territorio nazionale e all'estero, mentre la spesa complessiva sempre negli scorsi 6 mesi ammonta qualcosa come 52 milioni di dollari australiani, quindi ovviamente abbiamo la portata di quanto la politica possa costare alla collettività. Vedremo nei prossimi giorni, seguiremo la vicenda e daremo conto ovviamente anche dell'esito delle elezioni che come detto si terranno il prossimo 24 agosto e che si preannunciano apertissime tra i laboristi e i liberaconservatori, ricordiamo che ad esempio l'ex primo ministro laborista Kevin Rudd è stato brutalmente stromesso dal proprio partito che ha deciso di sostituire in Australia possibile il primo ministro in carica con la sua collega di partito Julian Gillard, signora con un piglio piuttosto deciso, decisionista che dovrà fronteggiare la concorrenza di John Abbott, il nuovo leader dell'opposizione unificata liberal conservatrice e vedremo come andrà a finire tenendo conto dell'incognita degli altri partiti più piccoli, il principale partito di opposizione è quello dei Verdi che incomincia a contare su un consenso piuttosto interessante che va intorno al 10%, quindi vedremo nelle prossime settimane, daremo conto appunto dei risultati di questa competizione elettorale, del peso eventuale, anzi quasi sicuro che questo scandalo avrà nel corso delle future vicende politiche australiane. Chiudiamo con Il Mundo, giornale spagnolo e ci spostiamo in Centro America, a Cuba in particolare, il paese come tutti i giornali dell'area ispanica fa riferimento da ampio risalto all'Aron 3 di Fidel Castro davanti al massimo consesso politico dell'isola caribica che è l'assemblea nazionale, equivalente del nostro Parlamento. Fidel ha parlato circa 15 minuti, quindi non ha tenuto uno dei suoi discorsi fluviali per i quali era internazionalmente noto. Fidel ha fatto la sua riapparizione in Parlamento dopo quattro anni a seguito della grave malattia da cui è stato colpito, ricovero lunghissimo, un'operazione piuttosto complicata e nel corso degli ultimi mesi ha iniziato a fare riapparizioni pubbliche, prima dall'ospedale in cui era ricoverato, poi da casa e adesso davanti al Parlamento, nel frattempo c'è stato un passaggio di poteri, nel senso che il potere è passato da Fidel al fratello Raul, ci sono state alcune aperture nei confronti del mercato, seppur minime da parte del governo, la situazione comunque è molto critica per quanto riguarda l'economia cubana, ovviamente la crisi internazionale non ha fatto che acuire questa situazione, perché la crisi ovviamente va a colpire quei sistemi, quei regimi che sono più chiusi, anche se ovviamente all'inizio sembra un po' che avvenga il contrario, però alla lunga sono proprio sistemi chiusi, autarchici che pagano il peso maggiore delle crisi economiche e quindi su tutto poi naturalmente si è innescato il caso della repressione nei confronti dei dissidenti rinchiusi nei carceri cubani dal 2003, anche quella è una situazione che sembra si stia comunque risolvendo, nel senso che i detenuti, i prigionieri politici cubani sono stati liberati e espulsi verso la Spagna, quindi in un modo insomma grazie ai buoni uffici della Chiesa Cattolica cubana si è riusciti a eliminare questa grave vulnus della politica cubana, anche se ovviamente sono ancora centinaia e centinaia dei detenuti comuni rinchiusi nelle carceri cubane di cui non si parla e che quindi ovviamente rimangono purtroppo rinchiusi con un destino piuttosto infelice ovviamente come ben si può immaginare. Fidele nel corso del suo intervento ha fatto tutta una serie come il suo solito di riferimenti all'attualità internazionale, paventando nel particolare il rischio di un conflitto nucleare tra gli Stati Uniti o l'Iran nella Corea del Nord nel caso di un intervento statunitense contro questi due paesi che stanno facendo di tutto, come ricordiamo, per dotarsi dell'arma nucleare. Ovviamente Salva Sandiro per l'ex dittatore cubano ovviamente la responsabilità di tutto questo ricade essenzialmente ed unicamente sulla politica estera americana. Poi si lancia in ardite immagini apocalittiche parlando di disastri, di specie umana che si avvia verso l'autodistruzione, insomma sembrano un po' le prime manifestazioni di una degenerazione senile che già da qualche anno, di un irrigidimento arteriosclerotico che già da qualche anno lasciava intuire, l'ex caudillo cubano. Poi il paese naturalmente si sofferma sulla forma dell'intervento, sul fatto che Castro è stato accompagnato alla tribuna dal suo fratello Raul, attuale presidente, e quindi vediamo se il Parlamento… Allora sì, praticamente si annunciano successivi interventi pubblici tra qualche settimana nel corso delle manifestazioni, delle tradizionali manifestazioni per quanto riguarda gli anniversari del regime cubano. E quindi questo è lo stato dell'arte, vedremo nei prossimi tempi come si sviluppa la situazione, anche qui ovviamente stiamo parlando di un regime ormai al potere dal 1959 che si trova come tutti i regimi autoritari in una grave crisi di credibilità e vedremo in che modo ne uscirà, ovviamente l'auspicio è quello di una transizione incoenta, senza violenza, da un governo autoritario e già totalitario a una moderna democrazia, anche se ovviamente le incognite lungo questo percorso sono ancora tante. Vi vediamo dalla chat, dalla chat mi dicono che purtroppo l'audio è basso, chiedo lumi, com'è l'audio, un attimo che vediamo un po', Roberto c'è dei problemi di audio, ma abbiamo finito praticamente, quindi siamo alla fine della trasmissione, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, no niente mi hanno fatto notare che l'audio era basso però già un po' di tempo fa, no adesso va bene pare, adesso va bene, ok va bene, no niente praticamente siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa internazionale, quindi abbiamo spaziato come al solito tra Europa e continenti vari, una pecca che mi attribuisco, a cui spero di rimediare nelle prossime trasmissioni appunto il poco spazio dedicato ad un continente importante come quello africano, comunque ci ripromettiamo appunto già dalla prossima puntata di dare ampio spazio a questo continente mattoriato che merita un'attenzione particolare, non solamente nei casi come quello appunto dei recenti mondiali, mondiali di calcio sudafricani, è appunto un continente che merita la nostra attenzione, se non altro perché portiamo purtroppo il peso di decisioni, di comportamenti nei scorsi secoli piuttosto arbitrari, piuttosto crudeli nei confronti di questo continente, quindi detto questo possiamo anche passare alla successiva, possiamo passare ai successivi commenti, interventi, interventi della programmazione, come ben potete vedere dal nostro panincesto, anzi lo andiamo a vedere insieme per vedere cosa non ci sarà perché sono saltati vari appuntamenti, adesso è previsto il collegamento con Ferrara, lo facciamo subito, successivamente sarà previsto il collegamento con Ferrara, con Mario Zamorani che è un radicale storico, punto di riferimento ma anche radicale storico dell'Associazione Radicali Ferrara, poi alle 16 è previsto il collegamento con Carlo Loio, componente del Comitato Nazionale e segretario anche dell'Associazione Radicali Cagliari, poi trasmetteremo un documento registrato durante la settimana con un collegamento con Silvana Bononcini, Libertiamo, salta questa settimana saltano due appuntamenti, l'appuntamento con Libertaria e l'appuntamento con il collegamento con la Spezza per problemi tecnici, questa volta con Deborah Cianfanelli ha avuto dei problemi di essere rotto il computer, ma noi in quell'ora e mezza trasmetteremo qualcos'altro e alle 18.30 ci sarà Isra del Cialta con Dimitri Buffa e per chiudere alle 19 con cui campagna il collegamento con Casetta con tutte le associazioni campane. Allora, no no no, Riccardo no, ci sei Teri, allora ci sei Riccardo perché io ti cercavo disperatamente, Riccardo, dunque, non è perché io non avevo più il collegamento via Skype, allora Salvatore facciamo partire il collegamento subito con Ferrara, visto che ci stava aspettando, poi recuperiamo Riccardo magari nel...